Bonny Parker mi aveva sempre cercato, come io avevo sempre cercato lei. Bonny e Clyde. Sono Bonny Parker. Come in Bonny e Clyde. Vorrei fare un preliero. Non fate arrabbiare Bonny e Clyde. Stanno per intraprendere una serie di crimini pieni di violenza, eleganza e inseguimenti con auto. E non è solo l'uomo a usare le armi. Se tu richiamarmi grosse contro le persone, faranno esattamente quello che gli diciamo di fare. Niente sarebbe più stato lo stesso. Io vedo noi due, che un giorno ci svegliamo, con tutto questo alle spalle. Forse la strada per arrivare al paese dei sogni non è la migliore, ma è la strada che ci ha chiamato. Clyde. Ti ho sempre amato, Bonny. Bonny e Clyde. Domenica 22 e lunedì 23 febbraio alle 21 su History & Crime Investigation. Grazie.